Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, che è Marco 10, 46, 52. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse, chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli, coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse, che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose, rabbunì, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Amè. Cari amici, oggi abbiamo con noi un bellissimo protagonista di questo racconto insieme a Gesù, che è questo Bartimeo, figlio di Timeo. Un cieco che sedeva lungo la strada a mendicare. Un cieco che desiderava vedere, un cieco che era abituato ad uno stile di vita, era ormai abituato a delle consuetudini, a delle abitudini. Stare seduto, non muoversi, attendere le lemosina, attendere l'aiuto degli altri ed essere un protagonista passivo della propria vita e della vita degli altri, perché non vedendo non poteva fare molto. Ecco che Gesù passa per quella via, Bartimeo lo viene a sapere e inizia a professare la sua fede, ma soprattutto a professare una propria speranza. Con questi gridi, dal primo in poi, che più o meno è sempre lo stesso, figlio di Davide, Gesù, in ebraico Yeshua, abbi pietà di me. Ecco che Bartimeo, dal profondo del cuore, grida, professa la sua fede, la sua fiducia, fratelli e sorelle. Perché spesso quando diciamo professa la tua fede, per noi è soprattutto una questione mentale, conoscitiva, molto astratta. Per Bartimeo, fede significava fiducia, significava speranza in quel momento, poiché Bartimeo sicuramente aveva ascoltato quello che si diceva di Gesù, aveva ascoltato quello che Gesù poteva fare, quello che aveva fatto, quindi che compiva segni, prodigi, miracoli e aveva parole di autorità, aveva già guarito altre persone. Ecco che dal cuore profondo di Bartimeo esce questo grido, un grido che è di speranza, un grido che non è disperato, come potrebbe essere il grido di un cieco che dice ormai la mia vita sarà così fino alla morte. Bartimeo è il cieco pieno di speranza, che addirittura riprende la profezia dell'Antico Testamento. figlio di Davide, la profezia fatta sulla casa di Davide, fatta da Dio per mezzo del profeta al re Davide, dalla tua discendenza io susciterò un re, una persona che verrà a portare la pace, che instaurerà il suo regno. ecco che Bartimeo, questa persona che poteva anche essere ignorante, ai margini della società diventa colui che professa la fede, colui che cita le scritture dicendo tu sei il figlio di Davide, io credo in te e proprio perché credo che tu sei Yeshua, la manifestazione di Dio che salva, io ti chiedo aiutami, abbi misericordia di me, guarda la mia condizione, guarda il mio stato di vita, guarda le mie incapacità e tendi la mano verso di me. Gesù, dopo averlo sentito chiamare, gridare, sempre più forte le dice vieni e quando le fa questa bellissima domanda cosa vuoi che io faccia per te le dice maestro quindi Gesù per lui per Bartimeo è il figlio di Davide il Dio che salva il maestro che io veda di nuovo quindi probabilmente aveva già visto non è un cieco dalla nascita e le dice io voglio tornare a fare quello che facevo prima che io possa rivedere apri i miei occhi e quindi Gesù le dice va la tua fede ti ha salvato e fu sanato quanto è importante questa fede di cui parla Gesù che come ho detto non è un concetto astratto non è un concetto un concetto possiamo dire mentale nella sfera conoscitiva nella sfera orientativa che una persona si orienta in quella religione in quei concetti in quelle idee in quella filosofia ma è la cosa più concreta che ci sia la fiducia fiducia in una persona fiducia che la propria vita può cambiare come quella di un cieco che non vedeva più allora ti invito caro fratello cara sorella in questo momento a presentare a Dio la tua difficoltà la tua infermità ancora meglio la tua cecità forse non è fisica forse è nel tuo cuore forse nella tua mente o forse è davvero fisica presentela in questo momento dili insieme a me Signore Gesù grazie grazie perché anche oggi credo che tu passi attraverso questo bellissimo episodio del Vangelo di Marco nella mia vita e io sento che sei vicino e io grido a te abbi pietà di me Signore confesso che tu sei il figlio di Davide che tu sei il Dio che salva un salvatore potente ma soprattutto sei il mio maestro ti chiedo stendi la mano e guariscimi io ho fiducia in te io voglio avere fiducia nella tua potenza voglio avere fiducia grazie Signore Gesù perché so che tu intervieni ti affido la mia vita la mia casa la mia famiglia le mie situazioni la mia cecità guariscimi e io ti testimonierò per sempre a te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli amè cari amici il nostro Dio è un Dio che salva Gesù nostro maestro e il nostro amico un salvatore potente lasciamoci guarire da Lui con fiducia viviamo questo giorno grazie che mi avete accolto ci vediamo domani buona giornata ciao spazmaci usaci scaldaci col fuoco del tuo amor spirito di fuoco vieni e riempici regna dentro di noi regna dentro di noi spirito di fuoco scalda i nostri cuoci regna dentro di noi regna dentro di noi regna dentro di noi riempici lavaci apri i nostri cuori a te plasmaci usaci grazie a tutti